Aumenteranno di 11 miliardi di euro le entrate nel 2018 e la spesa pubblica salirà di quasi 10 miliardi. L'anno prossimo il totale delle entrate nelle casse dello Stato sfiorerà a quota 800 miliardi in salita dell'1,41% rispetto al 2017, mentre dalle finanze pubbliche usciranno 839 miliardi con un incremento dell'1,19. Sul fronte delle imposte si registrerà un aumento di 3,2 miliardi dovuto a una salita del prelievo indiretto, IVA in particolare, di 4,9 miliardi, a una crescita di 600 milioni di quello indiretto e a una riduzione di 2,2 miliardi di altri balzelli. Questi i dati principali dell'operazione Fact Checking, realizzata dal centro studio di un'impresa sul documento di economia e finanza approvato martedì dal Consiglio dei Ministri, secondo la quale nel 2018 sono destinati a salire anche i versamenti allo Stato per contributi sociali e previdenziali. L'incremento che produce effetti sul costo del lavoro per le imprese sarà di oltre 3 miliardi. È il governo tassa e spendi, i numeri dicono sempre la verità e smascherano le prese in giro delle quali siamo ormai stufi, commenta il vicepresidente di un'impresa Claudio Pucci. Secondo l'analisi dell'associazione, realizzata sulla base del DEF dell'11 aprile, il totale delle entrate tributarie si attesterà a quota 499,1 miliardi alla fine del 2017. Di questi, 249 miliardi sono le imposte dirette, come IRPEF, IRES, IRAP, IMU, 247,1 miliardi le indirette, come IVA, ACCISE e Registro, e 2,9 miliardi le altre in conto capitale. Si tratta di una voce del bilancio pubblico che salirà a 519,5 miliardi nel 2018, rispettivamente 245,6 miliardi, 272,9 miliardi e 915 milioni, a 533,3 miliardi nel 2019. Complessivamente, considerano la variazione di ciascun anno del quadriennio in esame rispetto al 2016, l'aumento delle entrate tributarie nelle casse dello Stato sarà pari a 46 miliardi, più 9,29%. Le imposte dirette cresceranno di 6,5 miliardi, più 2,65%, le indirette di 43,7 miliardi, più 18,07%, e le altre si ridurranno di 4,2 miliardi, meno 82,09%. Cresceranno anche le entrate relative a contributi sociali, previdenze e assistenza. Da 224,5 miliardi del 2017 si passerà ai 232,8 miliardi del 2018, ai 241,7 miliardi del 2019, ai 247,4 miliardi del 2020. L'incremento complessivo di questa voce, che ha effetti sul costo del lavoro per le imprese, sarà pari a 25,9 miliardi, più 11,73%. In salita poi anche le altre entrate correnti per 5,2 miliardi, più 7,41%. Nessuna variazione particolarmente significativa per la pressione fiscale, destinata a restare stabile. Il totale delle entrate dello Stato rispetto al prodotto interno lordo si attesterà al 42,3% nel 2017, al 42,8% nel 2018, al 42,8% nel 2019 e al 42,4% nel 2020. Tutto questo con una crescita assai modesta. Il PIL dovrebbe crescere, secondo il DEF, dell'1,1% quest'anno, dell'1% nel 2018, dell'1,1% nel 2019 e nel 2020. Le imprese, commenta il vicepresidente Pucci, avrebbero bisogno di pagare meno tasse, e invece ne pagheranno sempre di più. Ci sarebbe bisogno di una revisione della spesa pubblica e invece aumenteranno gli sprechi. Servirebbe uno Stato snello che spende solo per le grandi opere e riduce le entrate al minimo indispensabile. Il DEF ci dice che il governo va nella direzione opposta, tassa e spende inutilmente.